Riconsegnare il trasponder qui nella zona cronometri, grazie. Tutti i piloti che hanno finito la gara, riconsegnare il trasponder, grazie. Allora, anche qui, grande spettacolo, fate molta attenzione. La manche del super campione in retroparza non sarà una manche composta da più cittadini in azione. Non sarà una manche ad eliminazione in quanto ci sarà un giro unico. Non sarà una manche ad eliminazione, quindi tanti giri, perché in questo caso i piloti si pensano loro ad autoeliminarsi. Quindi, attenzione, tutto è pronto, grande spettacolo. Manche del super campione in retroparza. Pochi istanti alla partenza. Tutti i caldi come dei boiler da 200 litri. Un giro unico. L'eliminazione sarà diretta. Nel senso che l'eliminazione avverrà tra i vari piloti. La partenza la possiamo dare da qui davanti, Fulvio. Ma da qui davanti, tanto ti vedono. Attenzione, tutto è pronto. Come vedete la pista è fatta. Come vedete. Come vedete. Come vedete. Come vedete. Oh, ma vedete. Il conflitto. Tipo. Intanto vi abbiamo il 107 che conta grande di Stacker. sta per ottimare il giro un grande applauso lui sicuramente è un garage molto difficoltoso per l'inserimento della macchina quindi ha fatto molta pratica ed è diventato con il numero di Simone Corbelli il super campione in retromarcia grazie spettacolo quindi adesso la premiazione ufficiale